Se ti devo dire onestamente quale preferisco, io preferisco la seconda parte di Buzz Spencer da Trinità in poi per diversi motivi, perché finalmente l'Western è diventato una fiaba da raccontare ai ragazzi, dove la violenza era sempre molto contenuta, si trattava di schiaffoni. Io voglio spendere una parola per tutti i miei amici acrobati che hanno lavorato attorno a Buzz Spencer e a Terence Hill, dando dello splendore a questi due attori, perché voi non potete immaginare che facevano i vari Riccardo Pizzuti, Attilio Severini, Benito Stefanelli, Bastianoni, Marcello Versiera, questi sono i nomi, Sal Borgese in un secondo tempo, Sal Borgese addirittura ha fatto dei ruoli di una certa importanza, fece un film in Africa dove faceva una specie di selvaggio scemo con la mamma che lo pigliava a sgalassoni, perché Borgese è simpatico. No, volevo dire, questi ragazzi che ora non sono più ragazzi, devo dire che meriterebbero un monumento, perché tutte quelle scene che i ragazzi vedono e si divertono, queste scazzottate dove si vede Terence Hill e lui, quelli che fanno i veri effetti sono quelli che li pigliano i cazzotti, non quelli che li danno, perché darlo è una cosa, uno fa finta di dare un cazzotto, ma quello che deve riceverlo, deve avere il tempo di prenderlo al modo giusto, di cadere nel modo giusto, voglio fare i complimenti e ricordarli tutti con tanto affetto. La cosa che mi colpiva particolarmente erano le cadute da cavallo, quelle che facevano gli stanzi, che le facevano in diversi modi, le facevano col tirante per esempio che è un pezzo di fil di ferro praticamente tenuto legato alla zampa anteriore del cavallo e tenuto molle, o un pezzo di fil di ferro o un pezzo di corda abbastanza forte e mentre si galoppa a certo momento all'ordine del regista che dice che deve cadere laggiù, questi tirano col tirante la cosa, al cavallo gli viene a mancare l'anteriore, sinistro o destro, cade e deve cadere anche l'acrobata. Come fai a non vederli i film del baspezzo? Io ci sto campando perché ho una percentuale sui diritti di replica che mi viene data da Limaie e tu calcola che ogni anno perlomeno ci sono 50-60 passaggi di film di Baspenza nella televisione, ci sono delle volte che due volte a settimana fanno dei film di Baspenza e quindi è fatalmente, credo di non aver mai visto un film intero, però sai girando col telecomando, ogni tanto De Becker, Trinità, un po' li ho visti tutti. Ecco, diciamo. Erano sempre dai 12 ai 16 turni di doppiaggio, quindi erano due settimane, ma nemmeno una settimana e mezza, a tre turni al giorno, tre per cinque e quinte, insomma sette, otto giorni facevamo il film. Ringrazio il Vescovo, ma il Drago e il Gattaccio devono tornare alle loro tane.